Buongiorno, allora è un sacco di tempo che non ci vediamo e io mi faccio vedere così come primo frame, assolutamente top Allora, sono le 5 del mattino, mi sono appena svegliata, oggi vi porto in una giornata di studio con me L'ultimo video che ho postato su YouTube è stato quello che mi hanno accettato al dottorato e poi sono sparita In realtà sono attiva su Instagram e TikTok, come sempre, vi dico sempre che lì sono un po' più attiva Però, lo ripeto, non sono sparita, sto bene, tutto ok Però, ecco, diciamo che negli ultimi mesi ho fatto un po' più di fatica, anche con gli altri social in realtà Perché il dottorato mi sta prendendo veramente tanto tempo, tra poco ne parleremo un pochino di più, un po' più del dettaglio E in più ho cambiato computer e la mia fotocamera sta un po' vaneggiando Avendo cambiato computer non è più... devo comprare un adattatore per poter mettere la schedina della fotocamera Va bene, insomma, ci hanno capito E anche il mio microfono va un po' come gli pare Quindi per adesso sto filmando col telefono, spero che sia abbastanza decente Però per il vlog è sicuramente meglio della fotocamera E poi vediamo se riesco a risolvere la questione della fotocamera E niente, quindi oggi vi porto questa mattinata di studio Spero che si senta bene, non posso urlare più di tanto perché c'è lui che dorme E porto con me e vi raccontro un po' dell'università, vi raccontro un po' quello che faccio Quindi oggi sarà un vloghino molto tranquillo Mi preparo nel frattempo prima di iniziare a studiare Per il semplice fatto che dopo devo uscire E incontrare delle mie amiche perché andiamo in un mercatino vintage Ecco per me Così sono già pronta quando devo uscire Allora, mi sono messa questa camicia Ma questa camicia mi sa che la voglio vendere perché non mi piace più di tanto Però ho il panciotto coi gatti Ok, quindi Volevo raccontarvi un po' come è successo in questi ultimi mesi Sono successe un sacco di cose Alcune belle, alcune brutte Non parleremo di quelle brutte perché non ho voglia in questo momento Adesso a settembre sono tornata dall'Italia Perché quest'estate sono stata un mese in Italia Ho avuto bisogno di una pausa Mi ha fatto tanto tanto bene È stato bellissimo, ho visto tanti dei miei amici Per la prima volta sono andata in Italia Ed effettivamente è stata una vacanza Perché non avevo il lavoro, non avevo lo studio È stata solo pura vacanza Quindi ho detto Wow, questo sì che è vacanza Quindi sono stata veramente contenta Sono tornata a settembre E subito ho dovuto immergermi nel dottorato Perché il dottorato era cominciato già da due settimane Quindi Quando sono tornata Il mio prof mi aveva scritto una settimana prima un'email Le ho dicendo senti il 14 di settembre Io tornavo il 12 Dovresti fare una presentazione Qua solitamente le presentazioni fanno parte comunque della valutazione finale eccetera Ed è comunque un metodo molto diverso dell'università Se mi seguite da tanto tempo Ho parlato spesso del metodo universitario canadese Se no potrei fare un video aggiornato Però ecco mi hai detto Ti dispiace fare questa presentazione il 14 Perché io l'avevo avvisato che ero in Italia E gli ho detto Ok Quindi praticamente Già avevo deciso che mi sarei comprata il computer in Italia Perché il mio computer Vecchio proprio non ce lo facevo più Quindi ho comprato il computer letteralmente E mi sono messa a lavorare su questa presentazione Che comunque ho fatto abbastanza fatica Perché giustamente ero in Italia Ero ancora in mood E godiamoci la vita Invece no dovevo fare questa cosa Quindi l'ultimo weekend in Italia è stato letteralmente questo Però vabbè Non importa Sono tornata Ho fatto la presentazione È stato molto bello E Poromir Poromir polpetta E E praticamente sono tornata in Canada E diciamo che Questa volta Non ho avuto neanche tempo Di essere trist Di essere tornata in Canada Soltamente quando torno O comunque con il momento di Nostalgia Con il momento Poromir Basta amore mio Non ho avuto quel momento di nostalgia In cui sono triste Perché dico Oddio sono tornata in Canada Bla 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 Perché sono tornata E letteralmente due giorni dopo Ero già all'università A fare addirittura il mio dottorato A fare addirittura una presentazione Dovante persone che manco conoscevo Perché li vedevo per la prima volta Conoscevo il prof però Perché lui è stato un mio prof Alla magistrale E niente Quindi alla fine È andata bene Il dottorato sta andando bene È stato molto intenso Soprattutto I primi due mesi Sono stati veramente Veramente intensi Rispetto alla magistrale Sono ritmi molto diversi Ma oltretutto I trimestri a Sherbrooke Sono molto più lunghi E i professori Che mi sono capitati Sono molto più intensi Rispetto a quelli Che ho trovato a Montreal Ma Mi piace tantissimo Mi piace tantissimo Quello che sto facendo I prof sono veramente carini Ho letto un sacco Perché sono in letteratura Quindi Sì Leggo un sacco E Ho dovuto farmi Sbloccare Il blocco Del lettore Diciamo Quindi ecco Però mi sta piacendo Veramente tanto Sono molto contenta Semplicemente E molto stancante Perché Io Devo guidare Quattro ore al giorno Quindi due andata Due ritorno Per andare all'università Non devo andare Certo di giorni Ovviamente Ci vado solo Due volte a settimana Ogni tanto tre Mi è capitato I mesi di settembre Ottobre soprattutto Di andarci tre volte E Quindi Diciamo che Sono tante ore di guida Più che altro Perché dici Potrei fare tante cose In queste quattro ore Della giornata Stavo dicendo Sono tante ore di guida Però allo stesso tempo Diciamo che cerco di Sfruttare queste ore Insomma per Fare altre cose Tipo ascoltare la musica Ascoltare un podcast Ogni tanto Magari mi metto anche Ad ascoltare dei libri Ma non libri scolastici Perché ammetto che Faccio un po' più fatica Con gli audiolibri Perché io sono molto Più veloce a leggere Quindi Per me gli audiolibri Sono utili Solo fino a una certa E soprattutto I libri scolastici Li devo leggere Perché magari Devo sottolineare Devo studiarli Devo ecco Quindi Non posso Non posso voler sentirli Quindi in questo momento Sto ascoltando Il podcast Di Office Ladies Che se siete fan Di The Office Ascoltatelo È super divertente Mi tiene un sacco Di compagnia Quindi ecco Ecco ho trovato Il mio passatempo Io non ero fan Di podcast Ma Lo sono diventata Perché Trovo che Ascoltare musica Quattro ore al giorno Sia un po' Come dicevo Il dottorato Sta andando bene Adesso Stanno arrivando Gli esami finali E insomma Diciamo che Quando sei alla magistrale Al dottorato I tuoi esami Funzionano molto diversamente Rispetto Alla triennale Perché Giustamente Tu Alla magistrale Al dottorato Stai imparando A fare ricerca Più che A studiare Diciamo Quindi Alla magistrale Al dottorato Tutte le cose che tu fai Sono Presentazioni Sono Isei Quindi Tutta ricerca Quindi sono tutte cose Che tu fai a casa Non hai esami Presenza O esami scritti O robe del genere Quindi ovviamente Da una parte qualcuno Potrebbe pensare Che è più facile Una cacata E robe così Non lo è Perché per esempio Quando sono arrivata Alla magistrale Dall'Italia Non avevo assolutamente Idea di come si scrivesse Un Isei Quindi ho fatto Molta fatica E Adesso il dottorato Un po' più intenso C'è un po' più di Pressure Di fare le cose Super bene Perché devi dimostrare Di essere Top Del top E di Far vedere Che sai Sai come fare Un Isei Sai come fare ricerca Sai come connettere Tutti i punti Ecco Quindi Per i miei esami finali Devo scrivere Isei da 25 pagine Che sono tantissime Io fino adesso Il massimo che ho scritto Sono state 18 pagine Per tipo l'anno scorso Alla magistrale E avevo scritto 18 pagine Perché ero tipo Super in the mood Perché era un Isei Su Gollum Aveva senso Si parlava del male Del bene Tutto quanto E oltretutto Era un corso Che si chiamava Bad behavior Quindi ovviamente Ecco C'entrava molto Con l'Isei Mi è piaciuto tantissimo Mi sono andretti un sacco E quindi Adesso io Quello che devo fare Sono Scrivere l'Isei I miei corsi In questo momento Sono letteratura E sono anche teorie Della letteratura comparata E In questo momento Sto lavorando Su un Isei Che parla dell'identità Quindi ho preso Due libri E come studio Poi vari testi di teoria In cui Parlo anche un po' Dell'identità culturale Che il Canada ha avuto Perché Il Canada è un po' Un po' complicato Ha avuto Ha poca storia Ma ha tantissima storia Per quanto riguarda La loro lingua La loro cultura E la loro identità Hanno fatto molta fatica A trovare la loro identità A separarsi comunque Dall'inglese Separarsi dagli Stati Uniti Quindi In letteratura Si è sentito molto Questo 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 disagio Chiamiamolo così Quindi Mi sono concentrata Su quello Cioè Non ho voluto fare unissi Solo sull'identità Proprio del Canada Come paese Ma ho preso Due libri In studio Per parlare un po' Dell'identità in generale E applicarla E applicarla all'identità Per esempio Ho preso un libro Che è È letteratura migrante Quindi parla di Questa persona Che deve lasciare Il proprio paese Perché sono stati Esportati È arrivata in un Refugee camp E poi è arrivata In Canada Una volta che è arrivata In Canada Comunque parla spesso Della lingua Di come ho dovuto Imparare francese e inglese Dell'esperienza Proprio da immigrato E mi sono sentita Molto toccata Da questo libro Perché Tante cose che racconta Mi toccano molto Da vicino Essendo che io Ho cambiato tre paesi Cioè Due paesi Perché vabbè In Moldavia ci sono nata Però ho cambiato tre paesi Quindi Mi sono sentita molto Vicina A questo genere di racconti Quindi ho voluto Parlare dell'identità Anche come persona Migrante Che arriva in un nuovo paese Devi diciamo Adattarsi alla nuova cultura E trovare la propria identità Cercando di mantenere Le proprie radici Che non è una cosa facile Il libro è questo Se volete leggere Il libro Lo consiglio tantissimo Si chiama Roo E stanno facendo anche Un film in questo momento Credo che andrò a vederlo Stasera È un libricino Ma è veramente bello E poi l'altro libro Invece È un libro Che invece parla di Una ragazza Che è all'interno Di una comunità Super religiosa Qui in Canada In Manitoba E quindi anche lì C'è tutta la questione Dell'identità Su come fuori Da questa comunità C'è Non ha C'è la sua identità È tutta shaped Attorno a questa comunità E quindi Diciamo che È tutto attorno a questo Quindi Diciamo che ho preso In analisi Questi due libri In modo da applicarlo Un po' alla teoria E applicarlo In generale A come il Canada Stava cercando La propria identità In quegli anni Non so se ha senso Perché sono il 5 da mattino Non riesco a spiegarmi Così bene Però ecco Quindi Sto lavorando su questo In questo momento Poi invece L'altro gizze Che devo scrivere Non l'ho ancora iniziato Ma Sarà un gizze Molto diverso Parlerà Della letteratura Intima Si chiama E quindi No E basta Io adesso finisco Di prepararmi E poi vado a prendere I caffettini E continuiamo La nostra chiacchierata Adesso vi lascio un caffè Io in realtà Negli ultimi mesi Ho smesso di consumare caffè Nel senso che Bevo un caffè Ogni tanto Soprattutto quando mi capitano Le emicranie In questo momento Purtroppo C'ho un piccolo attacco Di emicrania E questo mi aiuta Però per il resto Diciamo che Ho diminuito La mia quantità di caffè Perché una volta Prendevo veramente Tanto caffè Soprattutto Tornare in Italia Fa così tanto parte Della tradizione Del bel caffè Dopo ogni passo E tutto quanto Che bevevo Una cosa come 3-4 caffè al giorno E Anche Pensando Diciamo un po' La parte di sostenibilità E tutto Ho deciso di Diminuire un po' La quantità E mi sono data Il matcha Mi sta piacendo tantissimo Me l'ha fatto Una mattina Una mia amica Sono andata da lei A stare da lei E al mattino Me l'ha Me l'ha fatto lei Ciao Cristina Se stai guardando E E Tutti Questo matcha È proprio buono Perché non l'avevo mai assaggiato Mi faceva sempre un po' Impressione Con la cosa verde E E invece è buonissimo Quindi adesso mi sono data Il matcha E Ma il mattino solitamente Bego il matcha Però Ogni tanto capita che bego il caffettino Ce l'ho C'ho il caffè in casa Ho anche venduto la mia macchina Un po' del caffè L'unica cosa che mi è rimasta È la grandissima moca Questa bocca Questa bocca Mi è stata regalata Oltretutto Da una mia amica Anni fa Quindi in questo momento Io come Come caffè Solo veramente la bocca Allora in questo momento Non farò veramente colazione Mi berrò solo il caffettino Perché Farò colazione Prima di partire Incontrare le mie amiche Quindi Faccio un cappuccino Con questo Latte Che è il barista Della Vena Che costa una follia Costa Una follia Però l'ho trovato in offerta Quindi Ho detto yay Solitamente prendo Quella la soia Proprio perché Costa la Vena Costa veramente Too much Dobbiamo iniziare A gatekeep La Vena Perché non è possibile Che il barista La Vena Costi così tanto Cioè che addirittura La Vena Costi più della soia Non lo sappiamo Se era un po' inconcepibile Guardate che bellezza Questa schiametta Prima di iniziare a studiare Volevo farevi vedere I miei bellissimi sticker Del mio computer Forse è un po' esagerato Però Ho iniziato Con due sticker Poi ne ho aggiunti altri Finché non lo riempito Quindi quando vado All'università Diciamo che mi vergogno Un po' Per tirare fuori Questo computer Però Però diciamo Che era un po' triste Senza sticker Potete vedere C'ho tipo Forse non potete vedere E vabbè Però c'ho tipo Un sacco di cose aperte Devo fare un sacco di letture Devo leggere un sacco di cose E intanto Sono arrivata A pagina Nove Del Nove su venticinque Quindi Ho ancora un bel po' di lavoro da fare E il mio obiettivo è di finire questo I Se entro la fine del mese Mi sa che non ce la farò Perché sono tante pagine E ogni volta che lo rileggo Torno indietro E rifaccio tutto E Sta arrivando il giorno A questo momento Sono le sette E venti circa Quindi è passata quasi un'oretta In realtà Ho scritto un pochino E mi sono fatto più che altro Tanti appunti Riguardo i libri E Sicuramente potevo fare di meglio Ma mi sono un po' distratta Lo ammetto E niente Però sta andando bene Dai Cioè Sono abbastanza Mi sono riuscita a farmi almeno questi appunti Dove sono andare a cercare Le citazioni che mi servono E poi Pian piano sto facendo anche la bibliografia Che poi Metterò in ordine Alfabetico E basta Dai Allora Mi sono fatta il mio match E l'ho fatto con il latte di pistacchio E ho fatto un taste test Su Instagram E lo trovate lì sul profilo In caso vi interesse cosa ne penso Vabbè Spoiler alert Buono Niente di che È costato troppo Ecco Quindi bevo il mio match E Faccio una piccola colazione Cina E poi Vado al mercatino Vintage Come dicevo Perché devo cercare dei regali di Natale Io sono una persona che Fa sempre tutto Mese in anticipo Non mi piace lasciare le cose all'ultimo minuto E Pensare ai regali di Natale Mi permette anche di concentrarmi sul resto In modo di non dire Oddio Devo pensare ai regali di Natale In realtà non farò tantissimi regali Farò i regali a lui L'ho creato oltretutto Un calendario dell'avvento Quindi sarà interessante E Dei regali delle mie amiche E basta Assolutamente Non faccio grandi regali Assolutamente Faccio un regalo Alla mia migliore amica Che Non è qui Però Sì Non è che faccio tantissimi regali Però Voglio cercare comunque delle cosine E Faccio colazione Adesso mi sa che mi farò Un tofu strapazzato Che non lo faccio Da un sacco di tempo E Bevo il mio match Poi me ne vado Mi sa che oggi fa Meno freddo rispetto a ieri Lo spero tanto Perché ieri Faceva veramente tanto freddo E poi Il pomeriggio tornerò a casa E cercherò di finire di Di arrivare al mio obiettivo del giorno Che in realtà Ci sono quasi arrivata Però devo finire un libro di leggere Quindi devo per forza fare quello oggi Le mie amiche sono un po' in ritardo Quindi sto andando A sedermi in un caffè E ad aspettarle E poi andremo Al mercatino tutti insieme È una bellissima giornata Fa un po' freschino Se mi vedete con la sciarpa Perché Il vento è Abbastanza ridicolo E In questa zona Non è così tanto Cioè dipende sempre dalle zone Il vento E la potenza del vento Vicino a casa mia Era terribile Anche quando sono uscita dalla metro Invece su questa stradina Non è male Quindi Dai Allora in realtà Si è fatto molto tardi Infatti Sono quasi le 5 Sto tornando a casa adesso Pensavo che sarei rimasta molto Con le mie amiche Ma I was having fun Quindi Ho deciso di rimanere con loro Andare a berci qualcosa insieme E quindi Sto tornando adesso a casa Dubito fortemente che stasera Studierò tantissimo Magari leggerò Qualche pagina in più Però ecco Credo che per oggi La mia giornata di studio Si è finita Nonostante questo vlog Dovrebbe essere Una giornata di studio con me Ecco non sarà questo Però prima Mentre stavo aspettando la mia amica Perché dovevo ancora raggiungermi Sono entrata in questo barretto Per puro caso Mi si è rivelato Tipo uno dei barretti più belli Che abbia mai visto Ed era pure vegano 100% vegano Quindi ero troppo contenta Quindi niente Quindi adesso sto tornando a casa Cenerò Mi riposerò un pochino Leggerò un po' stasera E poi basta Per oggi è finita Spero che però Vi siate divertiti Che questo piccolo vlog Vi abbia fatto piacere E niente Ci vediamo la prossima volta Grazie